Amici di canalecaccia.tv siamo sempre all'interno dello stand della Forest Italia ma questa volta sono con Alessio non con Francesco perché andiamo a presentare un nuovo marchio che è entrato a far parte della grande famiglia di Forest Italia. Dopo FLIR, Armasight, Laica oggi abbiamo Hasler e quindi parliamo di munizioni da competizione, munizioni con una vastissima gamma di soluzioni. Esattamente, da quest'anno siamo molto ben contenti di annunciare che Hasler è entrata appunto come hai anticipato nella nostra famiglia, Hasler è un marchio leader nella produzione di ogive monolitiche e da quest'anno anche di munizioni complete in qualità. Sono stati i primi infatti a lavorare con delle accortezze, delle particolarità che erano impensabili fino a poco tempo fa su quello che è la produzione dell'ogiva in rame tradizionale. Hanno molte soluzioni che comprendono sia ogive da caccia come le hunting a frammentazione, quindi un'ogiva che una volta colpito il bersaglio, in questa fase l'animale essendo una munizione da caccia, si apre fino a frammentarsi in quattro petali più il corpo centrale. Poi con una gamma di disponibilità che va dal calibro 6 fino al calibro 30. Esattamente, 3,38 da quest'anno. Ah, 3,38 addirittura. Esattamente, esattamente, l'ogiva in 3,38 è stata l'ultima novità presentata anche qui a Caccia Village. Passando poi alle ariete che sono le ogive a espansioni classiche e tradizionali. Quest'anno poi troviamo una nuova linea di munizioni caricate, quindi sia con palle hunting che ariete, con calibri che vanno dal .308 passando per 7 Remington, .300, 7x64, 6.5. Quindi una gamma estremamente completa. Assolutamente, per tutte le esigenze, sia di chi è un appassionato ricaricatore che quindi cerca il meglio per la propria carabina, sia per chi cerca il meglio per la propria carabina ma non ricaricando cerca gioco forza la munizione commerciale. Diciamo che con questo Forest Italia si pone sul mercato italiano come il leader per la completezza, uno dei leader per la completezza praticamente dell'offerta su tutto il mondo del rigato perché oggettivamente dopo la parte delle ottiche che coprite con questi due marchi prestigiosissime sono Leica e sono FLIR e Marra Armasite perché come sappiamo è stata acquisita da FLIR, siete passati anche a quella parte che forse mancava. Era l'unica parte che ci mancava, il collegamento che chiude il cerchio per arrivare a offrire a tutti i nostri clienti una produzione di prodotti completi a 360 gradi in qualità per quanto riguarda la caccia a Canarigà. Perfetto, allora ricordiamo anche l'indirizzo internet diretto di Hasler che è haslerbullets.com per chi è che vuole andare poi a documentarsi su la miriade di prodotti che questa azienda offre e naturalmente ricordiamo ancora forestitalia.com che è il sito internet dove trovate praticamente l'insieme dei marchi che sono rappresentati da forest. Assolutamente. Alessio, io ti ringrazio, ti lascio agli amici cacciatori italiani perché qui la situazione sta facendo complicata anche per noi per avervi davanti alle nostre telecamere e ci sentiamo presto perché vi verremo a trovare su in azienda. Vi aspettiamo, siamo là. Ciao Alessio. Grazie ancora. Ciao.